Il conte Arese Lucini è lui il protagonista della mostra di Pontremoli con un quadro prestato dal Museo degli Uffizi di Firenze. Il conte è vissuto nell'Ottocento, ha partecipato ai moti risorgimentali del 1820-1821 e proprio per questo è stato imprigionato nel 1824 e condannato a morte. E' lì nel quadro che si vede la sua sofferenza nella prigionia, un quadro che in verità però è stato ritratto quando lui era già uscito, infatti la sua pena fu commutata in appena tre anni di prigionia. Qual è la cosa importante, il filone che lo lega a Pontremoli? E' lo stesso Francesco Aiez che ci dà la risposta a questa domanda. Nelle sue memorie autobiografiche scrive praticamente Mi fermai tre anni a Venezia, incominciai a pitturare un quadro di mezzana dimensione, un soggetto che mi piaceva. Pietro Rossi, chiuso dagli scaligeri nel castello di Pontremoli, viene invitato da un messo della Repubblica Venetra ad assumere il comando delle sue forze. E' praticamente il quadro che oggi si trova nella Pietancoteca di Brera e che raffigura questo momento dove le esigenze patriottiche della patria si scontrano con quelle familiari. Perché qui la moglie e le figlie chiedono a Pietro di non lasciarle e quindi di stare con loro invece che andare in guerra. Stiamo parlando di una vicenda medievale. Stiamo parlando di una vicenda medievale che ha come soggetto Pontremoli perché i Rossi, signori di Parma, l'ultimo baluardo nel 1336 fu proprio il borgo di Pontremoli. E questo episodio riportato più volte in varie cronache ci dà l'importanza intanto viaria e strategica ma anche di Pontremoli il ruolo che in quel tempo tra le grandi signorie avevano anche i signori di Pontremoli come in questo caso i Rossi che erano assediati dagli scaligeri e viene praticamente in mezzo ad una guerra dove c'era anche Venezia e Firenze che era sempre contro gli scaligeri. Pontremoli e gli Uffizi, una collaborazione che continua adesso con un quadro di un pittore ottoncentesco prestato proprio dal museo. Sì, nell'ambito di un'iniziativa che ritengo particolarmente innovativa quale quella di Uffizi Diffusi che consente ai territori come i nostri di ospitare opere di indubbio valore che sono contenute nelle grandi gallerie degli Uffizi a Firenze. Quindi per Pontremoli è un'occasione unica e poter iniziare questo percorso che ci consentirà poi anche magari in futuro di avere altre opere motivo di particolare orgoglio. Perché si è scelto di prendere proprio questo quadro? E con il direttore Smith a cui dobbiamo tantissimo per questa occasione si è valutato anche grazie ai suoi collaboratori e dai nostri storici locali che un dipinto di Hayes fosse particolarmente calzante perché c'è un altro dipinto di questo grandissimo pittore che si trova in Brera e raffigura sullo sfondo proprio il castello del Piagnano. Quindi il collegamento con Pontremoli è dato da un'altra opera di Hayes ma diciamo essendo lui l'artista che ha dipinto entrambe queste opere abbiamo ritenuto che fosse l'occasione giusta per creare questo legame.